La Biblioteca del Lagorà in Centro Storico a Lucca ha ospitato la presentazione del libro Cartelli d'Italia del comico pisano Cristiano Militello, una galleria di scritte folgoranti cartelli assurdi, avvisi strampalati, insegne buffe e cognomi improbabili. Un libro realizzato anche grazie all'entusiastico apporto delle migliaia di reporter per caso che continuano a spedirli le loro incredibili perle. L'evento faceva parte del ciclo di incontri della rassegna Lucca autori e alla presentazione hanno preso parte anche Demetrio Brandi e Elena Marchini. In tv striscia lo striscione resta il cavallo di battaglia di Militello ma da anni l'attore cura anche la gemella naturale, striscia il cartellone. Essendo dunque un libro fatto in cooperativa l'autore ha deciso che devolverà i proventi delle vendite alla fondazione Together2Go. L'autore che sarei io devolve tutti i proventi della vendita a fondazione TOG, fondazione che conosco bene, che cura gratuitamente 120 bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Li fiancheggio da qualche anno perché li conosco personalmente, so chi sono, vedo che il tragitto tra quello che ricevono e quello che fanno è brevissimo e quindi mi piaceva questa cosa.